37. LA VIA MISTICA Domanda Come giunge l'individuo alla via mistica? Guida attraverso le varie esistenze, passando da una concezione della trascendenza all'altra, secondo una progressione che segue l'ampliamento del sentire. 38. La via mistica fa parte del grande mosaico le cui tessere l'uomo trova disposte nelle varie esistenze e non importa quale tessera trovi prima e quale dopo, perché le trova comunque e tutte e il mosaico alla fine è completo, è meraviglioso, è armonico. 39. La via mistica Grazie a tutti.